Ben ritrovati oggi in primo piano gli ultimi episodi di cronaca a Napoli che hanno avuto per protagonisti, ma anche come vittime, ragazzi giovanissimi e anche minorenni. Ne parliamo con Don Luigi Merola, parroco da sempre in prima linea per la legalità, presidente della Fondazione Voce delle Creature. Ben ritrovato Don Luigi, grazie per la disponibilità. Pace bene a tutti. Partirei da quest'ultimo episodio che si è verificato a Giuliano, addirittura un bambino di 10 anni che accoltella un ragazzino di 13 anni per una lite davvero banale. Ormai possiamo dire Don Luigi che ogni limite è stato superato, ma quest'ultimo segnale che segnale è? È un segnale che abbiamo smesso di investire nell'educazione. Questo è il dramma che emerge a Napoli dopo tutti questi fatti di violenza, di coltelle, di pistole. Dobbiamo ritornare a investire nell'educazione. La prima cosa lo devono fare i genitori. Io, più che punire i minori, ancora stiamo dicendo inaspriamo le pene per i minori, significa che in campo educativo non avete capito nulla, in campo pedagogico veramente state all'anno zero. Noi dobbiamo investire invece nell'educazione, la formazione dei genitori. C'è un minore che è poi interrogato dal PM e dice perché l'è fatto? È a cui si è venuto. Cioè così si risponde anche davanti a un magistrato. A cui si è venuto. Cioè significa che quel bambino, quel minore, a casa vive solo la violenza. Cioè vive la violenza come una scelta quotidiana. Ecco certo, lei Don Luigi sa bene che la violenza minorile è stata da sempre un problema nella città di Napoli. Ora però c'è una particolarità perché l'età di chi commette questi reati si è abbassata in maniera davvero impressionante. A cosa lo possiamo attribuire secondo lei? Questa violenza viene innanzitutto dal fatto che i ragazzi non giocano più, non stanno più insieme. Stanno dalla mattina alla sera davanti a un tablet, respirano un po' di tutto questi ragazzi. Non riescono a gestire la rabbia, ma questa rabbia non viene gestita dal minore perché neanche l'adulto riesce a gestire la rabbia. Io ho visto genitori che portano i ragazzi a fare dei tornei di calcetto, ma quello si arrabbiano più i genitori tra di loro che i ragazzi in campo. Dunque, ma noi come possiamo essere di esempio a questi ragazzi? Se noi adulti prima non riusciamo a fare bene gli adulti. Ecco, allora la piaga, se così la vogliamo definire, questa piaga che sta diventando una piaga sociale, va curata. Perché c'è un rimedio, non possiamo dire che non c'è nulla da fare. C'è sempre, in campo educativo c'è sempre una ricetta che bisogna darla. Secondo me che noi a scuola, oltre a formare i ragazzi, dobbiamo fare corsi di formazione ai genitori. A sera le luci delle scuole dovrebbero essere accese, dove i genitori dovrebbero fare la formazione. Perché sono convinto che nessuno nasce genitore, si diventa genitore. Stai richiamando il ruolo dei genitori, ma cosa sta mancando secondo lei, oltre alla famiglia, che resta chiaramente il cardine del processo educativo di un adolescente? Abbiamo visto il modello Caivano, la repressione non basta, bisogna investire di più sulla prevenzione, soprattutto sulla scuola. Ma quello che la politica deve fare è innanzitutto creare palestre comunali, piscine comunali, campetti comunali. Non è possibile che un ragazzo esce dalla scuola e sia in mezzo alla strada, perché non c'è nulla. Noi ce lo dobbiamo dire. Siamo nel centro storico di Napoli, non c'è un campetto, l'unico campetto ce l'abbiamo noi come Fondazione Voce e Creatura. Oppure il campetto di Don Bosco, a parte della Doganella, oppure a Don Guanella, dove c'è un altro spazio. Abbiamo piccoli spazi, noi li dobbiamo creare questi spazi. Io ho fatto anche una proposta, riprendiamoci tutti questi conventi dove non ci sono più suore, sono abbandonati, ormai sono beni ecclesiastici, perché non li doniamo allo Stato, e lo Stato l'istruttura, nel cuore di Napoli abbiamo un sacco di conventi, non ci sono più suore, non ci sono più vocazioni. Utilizziamo per questo degrado sociale, per questo vuoto educativo, parliamo del patto educativo. Allora mettiamoci insieme, lo Stato faccia lo Stato, va bene la repressione, vanno bene i labbeggianti accesi a serie, i controlli, anche tra i minori. I poliziotti, i carabinieri devono controllare, loro devono capire che lo Stato c'è. Io quando ero paraco a Forcello, non lo posso mai dimenticare, Sasi uscì dalla parrocchia, dopo il teatro che fece con me, a tarda sera, perché io cercavo di tenerli quando fino a sera possibile in parrocchia, e mi disse Don Luigi non ti preoccupare, io vado a dormire, non faccio guai, perché ci sono troppi poliziotti in giro, vedo troppi labbeggianti, tu come ne vado a dormire? Vedete un po' come un labbeggianti può essere da deterrente in una città come Napoli? Certo, i controlli sono necessari, chiaramente. Intanto Don Luigi c'è un'emergenza anche di carattere sociale e culturale nella città, come dimostrano i dati, le cifre sulla dispersione scolastica. Come si dovrebbe intervenire, secondo lei, soprattutto per i minori che vivono in zone a rischio, possiamo dire? Allora, si dovrebbe intervenire con una sola cosa, tutte le scuole dovrebbero avere dei pulmini, dove noi andiamo a prendere i ragazzi fino a casa, perché quasi sempre, quando vediamo la Corte d'Appello che ha censito 800 minori che non sono andati a scuola dell'Opio, non sono mai entrati neanche un giorno, hanno fatto di scuola, significa la maggior parte che il 50% di quei genitori si è in carcere. Dunque, se un genitor si è in carcere, ma chi lo accompagna e va a scuola? Allora, se la scuola gli diamo tutte le risorse, tra queste anche i mezzi di trasporto, dei servizi, perché quello è un servizio, in tutte le città del nord, io ho visto scuole, ho visitato le scuole a nome del ministro Fioroni, Gelmini, negli anni ero il referente della legalità in tutte le scuole italiane, ho visitato 25.000 scuole, ma è possibile o mai le scuole a nord hanno tutti i servizi e noi a sud dobbiamo elemosinare sempre, in campo educativo, ma in campo educativo non si può chiedere l'elemosina, perché è il nostro diritto, la Costituzione italiana parla del diritto allo studio per tutti, per tutti, e allora andiamo a prendere con i pulmini i ragazzi a scuola, impegniamolo, poi facciamo a pomeriggio teatro, facciamo in modo che arrivano gli artisti, a Napoli abbiamo un sacco di cantanti, di artisti, a pomeriggio impegniamo, ti faccio vedere se a sera vanno a dormire o vanno in piazza a usare i coltelli, le pistole, eccetera, i ragazzi non vanno a fare risse, se ne vanno a dormire a sera. Le sue idee, le sue proposte sono sicuramente molto interessanti, intanto lei da una vita è, possiamo dire, in prima linea, a contatto soprattutto con i giovani che vivono in rioni a rischio, in territori a rischio della città di Napoli. Che tipo di alternative, secondo lei, bisogna dare soprattutto ai ragazzi per non farli cadere poi nella trappola della malavita, per non fargli scegliere una strada sbagliata, possiamo dire? A noi ragazzi dobbiamo far vedere, sì, le sere Gomorra, come sono state fatte vedere in questi anni, ma dobbiamo far vedere che poi il boss va in carcere o viene ucciso. Noi dobbiamo far capire che il boss non può essere un mito, non può essere un modello da seguire, perché noi abbiamo a Napoli 103 clan attivi ancora, però tutti i capi stanno tutti in carcere. Allora, se mandiamo i magistrati a scuola, le forze polizia, mandiamo a scuola anche esperti sulla strada sicura, perché è un'altra cosa che noi non diciamo, tante vittime di minori che avvengono a fine settimana per incidenti stradali, se noi a scuola mettiamo altre materie, la scuola si deve rinnovare, ve lo dico io, la scuola sta all'Antico Testamento, noi dobbiamo aprire la scuola al Nuo Testamento, noi dobbiamo insegnare le materie della vita, come si fanno le manovre di primo soccorso. Purtroppo noi siamo a scuola, nei programmi ministeriali, lo dico da insegnante questo, stiamo arretrati, stiamo un guaiati, ma veramente stiamo un guaiati. I ragazzi dovrebbero avere veramente dei maestri a scuola. Ti faccio vedere, una volta che noi facciamo vedere questo, i ragazzi se seguono la via del boss e della comunità organizzata. Ecco Don Luigi, la sua fondazione, la Voce dei Creature, che tipo di progetti sta portando avanti, proprio a favore dei giovani della città. La prima cosa i ragazzi studiano, perché quella è fondamentale, l'ignoranza e il male dell'Italia. Il primo male si chiama ignoranza. Due imparano un mestiere, fanno corso di pizzaiolo, corso di cucina, corso di estetista per le femminucce. In effetti noi a questi ragazzi a 18 anni gli diamo un lavoro. Una volta dato un lavoro, vanno a lavorare. E dunque il boss, che è un generale, senza i soldati, non può fare guerra. Io a Napoli voglio togliere tutti i soldatini ai boss di questi nostri quartieri che pensano di tenere ancora i ragazzi soggiocati. Invece no, dobbiamo fare in modo che questi nostri ragazzi, proprio perché nessun bambino nasce delinquente, ogni ragazzo abbia la dignità di studiare e di lavorare. Quali sono le difficoltà, Luigi, che una fondazione come la vostra deve affrontare? Quanto è difficile andare avanti nella città di Napoli? Mi hai fatto una domanda molto importante. Purtroppo mancano le risorse. Io vado avanti solo con i finanziamenti dei privati, che nell'ultimo periodo stanno venendo meno, perché la luce è aumentata, poi devono pagare i loro operai. Dunque la voce donazione la stanno tagliando. Perciò il grido che attraverso di voi faccio allo Stato è che devono investire in queste strutture. Ci vogliono più strutture di queste e allora mettete anche le risorse. Anche in questo bilancio 2025, devo dire la verità, l'unico che ha risposto al mio appello è la Regione Campania, che ha fatto un capitolo per il prossimo anno proprio per la voce del creaturo. Dunque devo ringraziare sia il Presidente, sia la Regione, che ha capito che attraverso di noi togliamo ogni anno 200 delinquenti dalla strada. Ecco, l'ultima cosa da Luigi per chiudere questa nostra intervista. Lei porta avanti il suo impegno con grandissimo coraggio, possiamo dire anche senza paura, perché ha subito intimidazioni anche piuttosto pesanti per l'impegno che porta avanti. Ecco, quanto costa nella città di Napoli essere dalla parte della legalità? Può costare anche la libertà. Pensate, per 15 anni ho vissuto sotto protezione macchine blindate. Oggi c'ho solo un agente di pubblica e sicurezza che mi accompagna. Però la gioia è più grande dei dolori. Ecco, vedere questi bambini rinati, questi bambini che vengono con gioia da noi. Appena sono alla campanella a scuola, perché loro è un semiconvitto, vengono a pomeriggio, no? Vedirli già, invece delle due e mezza, già dalle due. Stanno davanti al cancello della fondazione e vogliono già entrare. Ti riempio il cuore di gioia. E valsa la pena fare tutto questo per la mia città di Napoli. Certo, e noi saremo sempre dalla sua parte. Don Luigi Merola, grazie per questa intervista. Complimenti per il lavoro che porta avanti. Pace bene a tutti. Ciao, ciao. Soprattutto a favore dei più giovani della città. Allora abbiamo concluso in regia. Ringrazio Aldo Fenizia, grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci.